Sono Giovanni di Verona e da un mesetto a questa parte sto seguendo il corso pasticceria di base dello chef Andrea De Giglio e come dice sempre lo chef un conto è prendere una ricetta ed eseguirla un conto è invece conoscere e sapere quello che si sta facendo trovo questo corso veramente interessante i video dello chef sono sempre molto belli precisi è molto chiaro nelle spiegazioni devo ringraziare lo chef e tutto lo staff perché sono sempre molto pronti disponibili e soprattutto veloci nel dare le risposte a tutte le mie richieste niente io lo consiglio a tutti perché è veramente completo e ben fatto grazie chef